Turre elettorale agrigentino del Movimento 5 Stelle, le tappe il 22 agosto martedì a Sciacca, il 20 agosto domenica a Favara e il 21 agosto lunedì a Porto Empedocle. Gli interventi delle sindache Alba e Carmina, Irene Milisenda. In occasione delle prossime elezioni regionali le coalizioni, almeno sulla carta di centrodestra e centrosinistra, sono alla ricerca di un candidato unitario e condiviso. Anche se al momento si è indotte a ritenere che ciò non sarà possibile e che ogni schieramento presenterà invece due candidati ciascuno. E invece già dallo scorso 5 agosto in campagna elettorale e in Turre in Sicilia, il Movimento 5 Stelle, capitanato dal candidato presidente scelto da militari sul web Giancarlo Cancelleri, affiancato tra i vari comizi da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che ribadiscono. Vincere in Sicilia è importante per i siciliani che hanno bisogno di un riscatto. È arrivato il momento che la politica metta le mani nelle proprie tasche, anche per arginare l'emigrazione dei giovani. Mentre i partiti giocano al gioco della sedia, nel disperato tentativo di non perdere le proprie poltrone, il Movimento 5 Stelle viaggia spedito verso una nuova idea di paese, con un programma elettorale che prevede interventi nel mondo del lavoro, delle infrastrutture e della sanità. Dunque per i 5 Stelle si profila una campagna elettorale diffusa e capillare nel territorio in tutti i 390 comuni siciliane. Domenica 20 e lunedì 21 agosto la carovana dei 5 Stelle, a bordo di auto elettriche coloratissime ad impatto ambientale zero, saranno nell'Agrigentino e in particolare nei due comuni retti da un proprio sindaco, prima Favara e poi Portempedocle. Una tappa importante, afferma la sindaca di Favara, Annalba, che ci rende protagonisti in questo viaggio in Sicilia, per parlare di programma elettorale insieme ai cittadini. E in merito ascoltiamo anche la sindaca di Portempedocle, Ida Carmina. Sì, sì, avremo questa grande gioia di poter far parlare alla nostra cittadinanza Giancarlo, che è il nostro candidato presidente, e anche Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che Di Maio è la prima volta che viene a Portempedocle. Alessandro è già venuto due volte per la mia campagna elettorale e quindi faremo festa insieme a loro per prepararci a questo grande evento di liberazione della Sicilia, perché noi lo vediamo così. La Sicilia ha bisogno di una classe dirigente nuova che non abbia nessun legame col passato, con gli inciuci, con le logiche di partito, ma sia ridata ai cittadini, a cittadini onesti che vogliono solo ed esclusivamente il bene della propria terra. Magari qualche decisione sarà sbagliata, non tutto è perfetto, ma è la questione dell'approccio mentale. Basta, ora basta. Secondo me non possiamo andare avanti così, perché qui o si cambia o si muore. Non ne possiamo più di vedere i nostri giovani e farsi migliori spesso, farsi le valigie e andare all'estero, o quelli migliori di qua, doversi contentare di un pezzo di pane o di briciole per poter rimanere nella propria terra. Noi vogliamo lottare per questo. E Giancarlo, in prima fila, Giancarlo Cancelleri, sicuramente rappresenta questa istanza, ed è stato scelto dal popolo del Movimento 5 Stelle, con una votazione online, quindi senza chiusura in stanze di partiti, inciugi, ma semplicemente ci sono state un certo numero di persone che si sono proposte, sono state votate. Lui è stato più votato. Il 9 a luglio a Palermo, alla presenza di Beppe Grillo, abbiamo fatto una grande festa del Movimento per prendere coraggio, perché lottare contro certe cose non è semplice. Lottare contro la corruzione, contro la mafia, contro le clientele, contro le lobby, non è cosa semplice, ma siamo consapevoli che o si cambia o si muore.